prendiamo in considerazione una parabola con asse parallelo all'asse delle x la direttrice essendo perpendicolare all'asse risulta parallela all'asse delle y procedendo in modo analogo per la determinazione dell'equazione della parabola con asse parallelo all'asse delle y si dimostra che l'equazione di una parabola con asse parallelo all'asse delle x è del tipo x uguale a y al quadrato più b y più c e si ricava che il vertice ha coordinate meno delta su 4a meno b su 2a che il fuoco ha coordinate 1 meno delta su 4a e meno b su 2a che l'equazione della direttrice è x uguale meno 1 più delta su 4a e che quella dell'asse è y uguale meno b su 2a grazie